Quanti siete, perbacco, siete tantissimi, che bello, siete alla vigilia della partenza e sono sicuro che questa sarà un'esperienza meravigliosa per quanto riguarda la vostra crescita personale, la vostra crescita sportiva. Leggo tanto entusiasmo nei vostri volti e questo è bellissimo, conoscerete tante altre atlete e atleti di tanti altri paesi, spero vi divertirete, anche se qui tutti quanti vi stiamo caricando di grandi responsabilità perché dovete impegnarvi per voi stessi, per i familiari, per il Presidente Figo, per il Presidente Conte, il Presidente Malagò, non lo trascuriamo, tutto il governo, tutta la nazione diventa un carico emotivo eccessivo. Io dico per carità divertitevi, non vi dico partecipate soltanto, però attenzione sono convinto che bisogna sempre impegnarsi in qualsiasi cosa si faccia, quindi voi sicuramente anche come è nel vostro motto, che è un po' particolare perché se ci fate caso vi impegna la vittoria e poi se del caso come fosse un'alternativa comunque metterci tutto l'impegno, in realtà è una cosa univoca, c'è tanto impegno, uno mira la vittoria, se non ci riesce è contento lo stesso, è contento lo stesso perché non si può riproverare nulla se ci ha messo tutto l'impegno, poi sarà la vittoria, secondo posto, terzo posto, si qualifica, non si qualifica, la cosa bella è che noi siamo con voi, io vi ho conosciuto da poco, sapete, devo confessare questa grande ignoranza, pensate, solo qualche mese fa sono dovuto arrivare e viaggiare in Argentina al G20, eravamo a cena, lei lo sa forse, mi indica col dito, pure lei lo sapete tutti, e sì perché eravamo a cena durante una pausa del G20, ambasciata italiana, Valeria Mazza che è testimonia per l'Argentina di Special Olympics e mi parla della vostra realtà, io all'inizio volevo un po' star zitto, poi ho detto lo devo rivelare, non so nulla, mi sono fatto raccontare tutto, quindi adesso sono preparatissimo, 1968, Eunice Shriver, 1983 la realtà italiana, quindi insomma sono abbastanza preparato, vi seguo tanto, tra l'altro mi stavo chiedendo, ma è possibile seguirvi in tv? se la devo dire tutta, oggi è stato detto, potete chiedere al governo di intervenire con la Rai, no io non ci entro in tempo, allora il governo interviene sulla Rai, presto fatto presto, no, vi prometto che personalmente interverrò però non ho assicurato il risultato, però senza, con tutte le mie forze, sarà la prima telefonata che il Presidente del Consiglio farà ai vertici della Rai, lo faccio volentieri, spero così il pubblico italiano vi conoscerà meglio, vi sosterrà con ancora più forte trasporto, a voi ripeto godetevi questa esperienza e davvero divertitevi, grazie per questo entusiasmo anche da parte mia.